Ciao a tutti giugioline, allora oggi in casa è venuta una persona speciale, cioè abbiamo un ospite sensazionale in casa che adesso è in camera mia, andiamo a vedere chi c'è Chi c'è? Oh! O te qui, cosa ci fai? Mamma mia, bezza Oh, sei venuta qui? Si è subito innamorata di Oliver e Oliver si è innamorata di me C'è Oliver con noi! È lui la special guest Aiuto Ti mangio il rossetto, è probabile Ti mangio il rossetto Allora, Oliver, ragazze, dovete sapere che ha subito un grau intervento ed è diventato duochrome È vero, è grigio, è grigio e nero Grigio e nero, vi faccio vedere i dettagli vicino Scusate, è un po' di depilazione Amore, noi andiamo Ci piace anche così Oliver, noi andiamo Ciao Ciao Io vengo sempre male in te Ciao Allora, facciamo un video mentre caschiamo per le scale No, praticamente, noi stiamo andando a fare la bella vita ai gigli Perché siccome è soltanto il sabato prima di Natale e non ci sarà nessuno Abbiamo deciso di andare così A trovare un po' di coda Scusate ma io mi tengo la Aspetta, c'è gente? Sì Ok, c'è gente, però C'è gente, c'è gente Sembriamo idioti ma Tanto poi al ritorno sarà tutto buio, no? Quindi godetevi il paesaggio che c'è adesso E adesso ci sarà anche una scultura artistica vicino alla mia macchina Adesso ve la mostreremo Questa cosa che state per vedere Sembra un documentario Sì, tipo super qua Perché è una cosa che va oltre i limiti della bellezza Eccola Facile.it 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 Un parcheggio Che culo Entriamo dentro i gigli Aspetta, ti presento Tigrotto ketchup Oh che carino Bellino Adottato da mio padre come pulisci vero Davvero? Un giorno in bambapescia Qui si vede lui Inizia a fare così E io Ma ma che fai? Ma non serve a questo? Ma no, adorazione Non ne aveva state scendere No Comunque adesso entriamo dentro il macello dei gigli E io E io E io Abbiamo anche Topolino! Amore! Capirati della Walt Disney! Siamo da Queen! Ciao! Ovviamente questo è il suo e questo è il mio! Abbiamo fatto shopping e dopo vi facciamo vedere che cosa abbiamo comprato. C'è un albero di Natale. In pratica quelle della Queen ci hanno beccato nell'esatto momento in cui noi stavamo riprendendo le cannele. Lei mi fa dai! Riprendi ora che non c'è nessuno! No dai Lau tanto viene qualcuno! Dai dai riprendi! Apro! Due secondi! No no! Scusi! Bella figura! Giulia mangia gelato, Raffaello e yogurt! Una cosa pazzesca! È tanto felice! Non la vedevo da un anno via! Eh per bene per bene sì! Per bene per bene sì! Da un bel po' Sembra sceme ci guardano tutti al dettaglio! Cioè mi ha dato il cono e ho chiesto mi ha dato una coppetta! Sì sì! Come? Abbiamo finito un po' il gelatino? No! Siamo lente! Allora adesso ti farò un'intervista! Come ti chiami? Gigi! Quanti anni hai? Venti! Si! Garmerebbe avvera venti anni! Cambia mia nulla! Allora vediamo il trucco della Julie di oggi! Insomma cosa hai usato nell'occhio Julie? Te lo ricordi più! Matitoni della Essence e ombretti naked! si vede? si la collanina ha scritto love e poi altre cose vi farò vedere dopo eh farò vedere sicuramente scoperta del giorno è il corner delle yankee candles da Queen quindi se siete di Firenze zona e venite a Gigli c'è il corner di yankee candles noi siamo state due ore e mezza a snicciare tutte le yankee qui prima è buonissima a me mi stai bruciando il vaso c'ho anche lo stupino quasi si ora ti accendo bellina si ci vediamo a casa ciao ciao sono tornate stiamo tornando a casa non si vede nulla perchè è buio sono le 7 di sera si poi fa buio subito si infatti poi oggi è il primo giorno d'inverno oggi è il 21 primo giorno di solstizio d'inverno siamo a casa salve siamo a casa a casa siamo a casa a casa a casa mi dispiace per la luce perchè purtroppo è sera sono le 7 e mezzo allora facciamo vedere cosa abbiamo comprato nulla quindi ciao lol è finito è stato un piacere andate in pace il regalo di natale a mio zio buon e si praticamente sarebbe non ci vedrà c'è una nuova mi so il portacellulare quello da attaccare in macchina e questo via universale della celli che molto simpaticamente quelli di media world va bene costava 12 euro e 90 invece il doppio costava 24 euro poi abbiamo comprato preparatemi preparatemi dunque io ho comprato 5 candele e sono ho preso quelle due piccoline da mettere nelle bruciessenze per chi non lo sapesse sono quelle le tart quelle piccoline così e vanno messe nel bruciessenze guardi me lo so cioè l'aggeggino non so se l'avete mai visto c'è metti sotto una candelina e sopra c'è un piattino tipo e ci metti le essenze ma scusa anche per fare i crostini una cosa simile cioè si che praticamente te ci metti i crostini favalessa la fonduta tipo no ma ci fai anche i cioccolato ci fai anche i fegatini i crostini e i fegatini ce li metti sempre rimangono caldi comunque in poche parole soltanto che queste servono per le candele i bruciessenzi insomma li trovate anche dai cinesi è un euro oppure alla desperate mia mamma l'ha comprata alla desperate quindi se vi interessa bene e vi conviene però dividere tipo il coltello in quattro perché questo non ha lo stoppino così vi dura di più è strawberry buttercream quindi ti vedo se oh casca tutto vedi è tipo fragole panna esatto e vi giuro che sa di fragole panna avete presente il chupa chups fragole aspetta avete presente il chupa chups fragole panna tadaaa e questo è un frana tadaaa e questa è la regalana mia amica perché sono una persona molto tenda a fare regali in realtà è per non comprare tutto per me ahahah poi ho preso questa invece per me Christmas cookie quindi è uscita ora per Natale penso quindi affrettatevi come vi abbiamo detto prima alla Queen comunque anche in altre città di solito c'è se no sul sito Yankee Handles però andate in quello inglese perché costano meno rispetto a quello italiano si e questo sa di biscotto vanno a sentire anche a me è devastante ma che lo vedete che superine aspetta lamarino si legge? si vedete che ci sono proprio i dolcettini disegnati cioè che cosa c'è di Natale e questo invece è per me per lei per regalare poi ho preso 3 di quelle più grandi ah scusate queste costavano alla Queen 1,80 euro queste piccoline quindi comunque è conveniente perché io ce l'ho un'altra a casa e ha comprato la Julie tra l'altro quindi dopo ve la farà vedere esatto e se le dividete in 4 vi durano una vita perché vi si scioglie la candellina sopra e poi rimane profuna ma si se non la togliete e il giorno dopo le mettete su un'altra candellina sotto per farla sciogliere si risente di nuovo quindi è troppo buono ah poi per levarla siccome poi la cera si scioglie freezer davvero? se la metti in freezer la cera si stacca la foglia bellissima io amo sta ragazza sa tutto questa è la mia zia a child wish quindi un desiderio di un bambino presumo questa qua che è verde in pratica l'odore me ne sono fregata però tipo mia zia è a tutta la casa verde e siccome per Natale gli abbiamo preso un portandelle tipo una farfallina verde gli ho già preso quelle piccine di Maison du Monde però non è cioè sono quelle piccoline tipo le mini 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 alla Ikea verdi però ho detto vabbè visto che c'è due euro e cinquanta queste costano e questo è non lo stoppino ora si sente davvero? va a sentire? è perché c'è andato via un po' i piccoli sì una cosa del genere però non è male è delicato molto sì sì buono e poi non c'erano le tarte piccole di vanilla scuchi madonna quelle sono troppo buone vabbè poi ho preso una alla mia mamma blu perché mia mamma è fissata col blu abbiamo fatto il salotto blu e è turquoise sky cioè cielo turchese si vede ma si vede si vede la scritta si vede e zamarina è così brava e poi per me ho preso snowflake cookie anche questa per Natale perché ci sono le palline è tutta rosa quindi sta anche bene in camera mia c'è la camera rosa? mh rosa e nera sì e anche questo oddio cioè la Giulia ha detto che non gli piaceva me l'ha chiesto 30 volte da non usarla ma è buono ma c'è un odore particolare è biscotto non è? è del mio biscotto si è di quei biscotti tipo una cannella tipo un po' più cannellosi un po' più di quelli un po' più friabili tutte le volte le preghiamo una rosa fammi sentire questa ecco la che c'ho io ah ok e questa ecco la che c'ho io va bene è troppo cioè tipo è simile a Christmas cookie però è un pochino più forte giusto me allora ho preso per la mommina regalo di Natale quindi zitto allora da Catrice quindi passiamo dalle candele dopo faccio vedere anche le candele da Catrice ho preso un sì un dolcetto un rossetto quello della ultimate shine gel coral com'è che l'ho detto? coral coral ok lo 010 love loves divine wine love di wine cioè che sarebbe un giorno di parole tra vino e vino esatto questo è veramente bello oddio però non rende è un rosso bordeaux è bello mi metto la foto a foto bene take a picture e la faccio vedere qui arrivo ad ore di pizza arrangono madonna io non so cosa si mangia stasera eh perchè la mamma arriverà tardi qualcosa di molto arrangiato te cos'è che ti piace? ah io adesso a cena ah si lei rimane a cena ok comunque non mi piace ma io volevo tipo delle ostriche e ti piacciono le ostriche davvero? e poi era per dire un'ora costosa e raffinata ok per prenderti un povericolo lastice tipo una volta andai da mio amico e tipo si mangiava e dopo un po' tipo arrivò e fece no eh mamma guarda la Laura voleva le lasagne c'è rimasta male cioè mia vero io sono ma no davvero ma cheee che merda e poi ho preso anche il matitone quello celeste io spero che non si arriva alla tua mamma perchè stai mercando e se ti sente è un bello scoperto il tuo regalo ma no 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 e poi ho preso il matitone questo celeste della essence che ho anche io che però non è celeste si è più blu poi invece e il babbo che non si può dire i vecchiati la io ho preso un paio di quanti per andare in moto perchè non ci va a freddo da da cna però non si dice il prezzo perchè magari poi guarda il video esatto della tino slate e sono c'è c'è caldissimi tipo di mega file però super inglesi qui c'è tipo il ditone enorme no su belli belli pesi e poi passiamo alle candele allora io ho preso quelli senza stoppini perchè le volevo provare giusto ma non devo provarli non si dice devo provarli jesua testé testé ho preso però aspetta paradise spice che è la più forte che è questa fortissima ecco tipo zenzero non lo so qualcosa del genere comunque i fiole sono questi qua papà allo zenzero regali allo zenzero taglio ti auguro zenzero e poi ho preso midsummer night buona anche quella non me la ricordavo oddio ti vedo sniffare e poi l'altra quella al cocco ma cosa vuoi lascia sniffare cocco nero si è buona io ce l'ho è quella lì quella che io ho a casa la prima mia esatto che il bello è che quando l'ho comprata io non lo sapevo che andavo a messa nelle bruciessenze no quindi poi arrivo a casa e faccio no ma non c'è lo stoppino in questa candela è rotta è rotta ho chiamato il mio babbo tipo il mio babbo mi fa guarda ci sta che sia stato sotterrato dalla cera quindi scava quindi tipo ho preso una cosa inizia a scavare per cercare lo stoppino non c'era dopo ho guardato dei video e ho scoperto da non mi ricordo chi che non c'erano le bruciessenze quindi bene allora io cioè io noi vi salutiamo perché ora mi sa che è arrivata la mammina e quindi si va a preparare la cena e si mangia preparo io quindi un bacione grosso ciao ciao tra un anno ci sarà il prossimo video con me esatto per meno così sì sì è vero l'ultimo video era il vlog in centro vabbè no sono apparsa anche pure entrambia ah è vero 5-6 moni però adesso io ho scoperto dove abita la Giulia quindi posso venire a stalkerarla e quindi se mi ricordo la strada per tornare rosonda fagiolo sì rosonda fagiolo è quello il punto di riferimento sembra un fagiolo tipo un'occiolina strada eh ragazzi non sembra ragazze spero che questo video inutile vi sia piaciuto però magari avete scoperto qualcosa sulle Yankee come la Giulia oggi grazie a me infatti vabbè raccontiamo la cosa lei siamo andati da qui e diceva chissà se qua ci avranno le Yankee Candles e una ragazza si gira e fa ah le Yankee Candles sì sì ce l'hanno l'ho comprata ieri davvero e quindi noi li dobbiamo andare a girare tutta la coina esatto qui in casa e c'era praticamente tipo questo angolino con tutti questi mobilini oddio ragazzi noi li dobbiamo così oddio buonissima ma che buona che è oddio questa no cosa non mi piace niente questa si non la sento bene poi non ci sento più niente mi si stavano bruciando le narici così una wii una wii una wii aspetto oddio buono ma tipo questa è veramente speziale cioè ma mi si vede sì vabbè buone feste buone feste buona befana buona pasqua sì speriamo il l'anno nuovo buon per agosto buon contatto buone feste buone feste ma tu ti prendi un pericolo no allora il discorso era che speriamo che quest'anno nuovo vi porti tante cose belle e che tutti i vostri problemi si possano risolvere presto lechina magari si uno o due scritti in più arrivano grazie a questo discorso tenero che ho appena fatto è vero scusami blu peeees blu peeees acqua c'è lo zoom ci sono ah sì guarda qua ahahah ok ah ah zoom natale no da sembri nooo ciao 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 allora qua non le metto queste vero mi sistemo ahahah ahahah ma questo è un pause si ahahah è attaccato ahahah ahahah è attaccato ahahah ma c'è la gomma sotto vabbè fa la graffa non lo so non lo so non lo so non lo so ma c'è la gomma sotto bloopers ma c'è la gomma ahahah 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 mi è freddo ho fatto vino a casa ma facciamo una tavea salutiamo e facciamo così bloopers mi salutiamo mi salutiamo mi salutiamo si esatto non si riprendetevo non si riprendetevo non si riprendetevo ciao e ragazzi lo stand delle yankee è devastante anche a me mi capi? e adesso senti guardi mi sa che c'è la gomma nulla ma siamo a due ore dove esser rimasto ma non arrivava avanti ma siamo a casa ma siamo a casa ahahah ma guarda ho una questione ma secondo te siamo a casa ahahah e Oliver è a casa? Oliver no Oliver è lì guarda eccolo esempio raspari sembra si adesso io la uccido mamma io sembro pelata proprio io sembro scema il vlog è alla camera tanto non ci vede Michalestuno nooo si assicuramente non ci vede Grazie a tutti